Siamo pronti Alessandro? Pronti, pronti? Dai che dobbiamo andare che ci sono i clienti all'esterno I proprietari chi sono? Due ragazzi Sono giovani Abbastanza, 25-28, ma perché? Mamma mia, i peggiori, quelli sono distratti Non ho una macchina così, ci vuole una guida matura, capito? Che fai, non gliela diamo più? C'hanno un cagnolino per caso? Il pastore tedesco puoi zalle Pastore tedesco? Dove lo metto qua dentro il pastore? Io l'ho lavata da poco Mentre il pastore tedesco mi sporco tutto cosa Ti fanno normale sta cosa E che gli diciamo toglietevi il pastore tedesco Se riesco altrimenti non mi consegniamo più la mamma Se vieni una voce al limite indietro è meglio la voce al limite indietro No, 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 no Allo, di ragazzi che sono distratto Che fuori qua c'è proprio un fosso Se strattenti perché c'è ciappere Poi c'è, al primo semaforo c'è un altro fosso ancora più grande Capito? Li prendono tutte e due Se attende glielo dici tu e... Aspetta, 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 aspetta Aspetta, aspetta Dobbiamo andare Dai, devo controllare anche la frizione, dove vai? Devo fare l'equilibratura alle ruote Ma dove vai? Vabbè, ci vediamo al primo tagliando Mi mancherai Ciao 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 Grazie a tutti.